Una nuova eruzione vulcanica si è verificata in Islanda, nella penisola di Reykjanes. E ha indotto le autorità nazionali a dichiarare lo stato di emergenza e quelle locali a ordinare nuove evacuazioni. L'eruzione, l'ottava in poco più di tre anni e la quinta negli ultimi sei mesi, è stata preceduta da una lunga serie di scosse di terremoto di entità moderata o strumentale, con epicentro a nord di Grindavik, e questo ha consentito di evacuare per tempo i residenti nelle zone più prossime al luogo dell'eruzione. Oltre al villaggio di Grindavik è stato evacuato anche il noto centro termale del Blue Lagoon. Insieme allo stato di emergenza è stato dichiarato un codice rosso di allerta, il massimo possibile. Al momento, però, l'operatività dell'aeroporto della capitale Reykjavik non sembra a rischio. I pennacchi dell'eruzione, iniziata nel primo pomeriggio di mercoledì 29 maggio, hanno raggiunto un'altezza anche superiori ai 50 metri. La lava è fuoriuscita da una fessura lunga circa un chilometro. La precedente eruzione vulcanica, iniziata il 16 marzo, si era conclusa definitivamente solo tre settimane fa. La lunga serie di eruzioni aveva già portato all'evacuazione dei residenti nei mesi scorsi, ma anche alla costruzione di barriere protettive per la centrale geotermica di Svarsenghi, che fornisce acqua calda ed elettricità a circa 30.000 persone in tutta la penisola di Reykjanes. Svarsenghi Svarsenghi